Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa seriosa puntata di L'Oletta 5 Channel GTA Siamo nelle zone della funivia, quindi oggi andremo a sperimentare la funivia e poi vedremo di fare diverse cosucce, ossia una delle quali è buttarsi e lanciarsi col paracadute e l'altra è fare escursioni con la motocross, quindi ci vediamo dopo Allora ragazzoni, eccoci qua, siamo arrivati al posto della funivia, eccola qua Adesso noi entriamo, siamo entrati, giusto? E adesso aspettiamo di pagare il biglietto, ma non ho capito che siamo entrati O se tra un po' po' riparte Infatti noi vediamo come ho vestito il mio dolcino, con la felpa rangione, con quella che c'è io nella realtà La tuta, molto scioscio oggi ho vestito Non capisco perché non riparte Eccola qua ragazzi, non so perché ma questa è la visuale che abbiamo ragazzi Bellissima e stupenda di tutta quanta la montagna che siamo noi che stiamo per salire Oppure abbiamo la visuale standard che ci fa vedere la funivia dove va Eccola qua, calcolate che io ho fatto l'esperienza della funivia di stare ragazzi la cosa più brutta che ho provato in tutta la mia vita Al secondo posto va treghetto e barca Io ci soffro, soffro i mezzi, soffro la velocità e tutto il resto La funivia non va tantissimissimo veloce, però è se io sono spesi nel vuoto, in questa specie di cabina Tipo 1800 ha pesato un filo e devo dire che non è stato molto bello Ma comunque saltiamo avanti E arriviamo dove vogliamo arrivare Eccoci qua Allora, andiamo di qua Ovviamente costa 10 dollari, 10 euro ogni giro E adesso non ci andiamo nel pizzo della montagna Perché da questa parte Corri, non ci spicciamo più Da questa parte abbiamo Abbiamo, abbiamo, abbiamo Ecco, ecco No, il telefonino magari non prende Abbiamo qua sopra, come vedete Scommetto che tutte queste cose non le avete mai fatte E allora, vedete queste motocross Adesso noi inizieremo a cazzeggiare le crevente E questo poi avete delle vedute Eccoci qua Ok Andiamo un po' per usapaggiare il telefono Oh yeah Mi tocca un po' frenare Perché sono a finire niente Aiuto Massacrato Ho ucciso Franklin Bene Adesso ho pochettato l'orangio I miei colpa per la tuta Vediamo se ci riusciamo È morto